Torna un grande evento sul territorio del Lazio, è una qualificazione all'europeo giovanile. Cosa significa per Regione Lazio essere al fianco della palla a volo? Tanto l'orgoglio di essere gli ospiti di una manifestazione così importante e poi la consapevolezza di dare un contributo alla diffusione di uno sport molto diffuso e popolare e inoltre la possibilità di creare le condizioni per scambi umani, sociali, culturali e anche economici. È anche un'occasione per scoprire le bellezze della Regione Lazio, visto che ci sono altri tre nazionali oltre all'Italia e quindi in ottica turistica questo può essere un pericolo. Sicuramente, appunto, dicevo, è un'occasione nella quale gli ospiti, gli atleti e tutti coloro che sono gli accompagnatori possono godere delle bellezze di Roma, della provincia di Roma e della Regione Lazio. Una struttura nuova questa, l'impiantistica può avere un ruolo decisivo per lo sviluppo dello sport dopo la pandemia? Sì, la Regione Lazio ha molto incentivato le varie amministrazioni comunali a realizzare impianti sportivi sia per la pratica dello sport per le proprie comunità e sia per ospitare eventi di questa importanza.